è partita nella scorsa settimana una sperimentazione con dei rilevatori di velocità lungo la statale 203 uno all'altezza dell'ex caserma di vigili del fuoco e uno davanti al distributore azzalini mentre questa mattina è partita la ulteriore sperimentazioni del semaforo di baldenic abbiamo messo tre fasce orari dove il semaforo funzionerà regolarmente abbiamo dato un'opzione anche ai pedoni di attraversamento in perfetta sicurezza quindi anche quando il semaforo è lampeggiante prenotando l'attraversamento il semaforo diventerà rosso e quindi fermerà il traffico e permetterà di attraversare in perfetta sicurezza questo è dovuto a una sperimentazione perché vogliamo verificare i flussi di traffico perché quando il semaforo è rossa soprattutto nelle zone di non maggior traffico comunque le auto producono inquinamento e anche